Se questo video dovesse arrivare alla bellezza di 7000 mi piace ragazzi provo a fare pvp nei server di pocket edition Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft Oggi mi trovo per la primissima volta su minecraft pe ovvero pocket edition nel cellulare Ho già provato un pochettino a giocare dal cellulare e vi posso assicurare che non è per nulla facile O almeno io non ci sono per nulla abituato quindi questo sarà il mio primissimo mondo creiamolo e vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare Ora il mio scopo in realtà in questo pocket edition è quello di cercare di uccidere qualche animale Di collezionare un pochettino di blocchi in modo tale da andare avanti un pochettino Perché sappiamo bene che nel primo episodio di minecraft solitamente non si fa molto Ed è parecchio difficile devo dire la verità riuscire a muovere il cursore e tutto quanto Seppure io abbia già cambiato la sensibilità e quindi diciamo che non è più a 90 e sparata come prima Perché se dovessi rimetterla come era prima ragazzi Allora andiamo nei settings e se non sbaglio La sensibilità era tipo a 70 o una roba del genere Guardate come si muove velocemente Oh mio dio ok non si può assolutamente giocare con questa sensibilità Tra l'altro spero che il video abbia comunque una buona qualità e quant'altro Perché ho cercato in tutti i modi possibili di avere una buona qualità grazie a un programma Una app che sto registrando e per chi me lo chiederà poi nei commenti Perché so che ci saranno un milione di commenti tutti uguali Vero candle che cellulare hai? Questo è un Samsung Galaxy S8 Plus Ok intanto ci stiamo prendendo un bel po' di legna come potete ben vedere E soprattutto lasciate un bel mi piace se vorreste vedere degli altri video in Pocket Edition Perché mi avete chiesto in tantissimi di provare questa versione Di provare... oh no aspetta Ok perfetto Mi avete chiesto in tantissimi di provare la Pocket Edition E sinceramente fino a ieri non avevo il minimo interesse Pensavo ma si dai tanto il solito Minecraft normale eccetera eccetera Dopo invece ho guardato qualche video e ho pensato Ma sembra carino sembra veramente carino E considerato che me lo chiedono in veramente tantissimi Potrei effettivamente portare un bel video Quindi spero questo video vi piaccia Anche se non sarà granché Voglio dire alla fin fine sono io che giro nel mondo E andrò alla ricerca di qualche mostro Non lo so Intanto ci stiamo facendo un pochettino di utensili Mettiamo un altro pochetto di legno Come vedete ancora sono abbastanza impacciato E dobbiamo imparare come si dividono ora le cose Se volessi fare degli stick No Non funziona Non posso farlo? Forse devo fare doppio click Doppio click? No Ok allora sapete cosa? Utilizziamo un attimo la guida Perché la guida teoricamente Ecco la guida dovrebbe avere già tutte le cose che mi servono Quindi ci prendiamo un pochetto di stick Ora chiudiamo la guida Perché con questi stick Ci possiamo già fare una spada Ma come si fa la spada se la crafting qua è soltanto di 4? Dobbiamo farci una crafting Ecco che cosa stavo pensando Pensavo che questa fosse già la crafting Mentre no in realtà non è la crafting Ok ci facciamo la crafting table Perfetto Crafting table fatta Ok E adesso cosa ci possiamo craftare? Una spada la possiamo fare Ma si ci possiamo fare una bella spada In legno Che è comunque già qualcosina Ora ci dobbiamo riprendere Oh mio dio Sono molto impacciato ragazzi Da quel che potete vedere Non sono ancora bravo a utilizzare Il Minecraft Pocket Edition Quindi con il cellulare È la primissima volta che ci gioco Ho fatto un test come vi dicevo Ma non era andato proprio benissimo Era semplicemente per cambiare la sensibilità Eccetera eccetera E ci troviamo per caso in un'isola Cioè mi prendi in G Ora io devo Devo nuotare Oh ecco una pecora Ok la dobbiamo uccidere Guardate le mie abilità ragazzi Nel PvP In Minecraft Pocket Edition Dove vai? Dove scappi? Torda qua pecora Ti devo ammazzare Ok l'abbiamo uccisa E mi ha dato del cibo Cibo che mi serve Ah sì qua sopra Ok qua in alto Ci abbiamo le barrette del cibo Ok Mentre qua ci abbiamo quelle Della vita E soprattutto Se io mi dovessi buttare giù E scendere Come faccio a risalire poi? Ah così? Ah è molto semplice È molto intuitivo Devo dire la verità Ok così affogo E poi se voglio risalire Mi basta andare avanti Molto bene Adesso cos'altro c'è da fare Su Minecraft Pocket Edition? Cioè in effetti potrei anche Iniziare a costruire Magari una casetta Il problema è Come si costruisce una casetta Visto che Cioè Ragazzi lo schermo del mio cellulare È abbastanza grande Voglio dire È un cellulare abbastanza Non è proprio piccolissimo Ecco Oh ecco un altro maiale Vieni qua Muori Nonostante ciò sto avendo io difficoltà A muovere tutto quanto Sarà che non ci sono abituato Forse è perché non ci sono abituato Non lo so Allora proviamo a costruire La nostra prima casetta Che verrà uno proprio Sicuramente farà Di poco schifo ragazzi Ecco abbiamo iniziato proprio male Già abbiamo piazzato un blocco Che in realtà io non volevo piazzare Quindi così 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 Bene Non abbiamo abbastanza materiali Decisamente no Quindi verrà una casetta Probabilmente Mista tra legno E terra Ma a noi ragazzi Che ci importa Voglio dire A noi non ce ne frega nulla Dell'estetica Perché questo è un video test Sto proprio imparando A utilizzare Il Minecraft Pocket Edition Fatemi sapere voi nei commenti Se Giocate già Questa versione di Minecraft Oh mio dio Ho sbagliato Dobbiamo togliere Questo blocchetto qua Allora sapete cosa Facciamo un attimo una cosa Piazziamo una crafting table Perfetto Io avevo tolto Proprio apposta Internet E tutto quanto Proprio per non farmi arrivare I messaggi Allora facciamoci Una bellissima Accetta In questo modo Ottimo Così possiamo rompere Il legno Più velocemente Eh sì Però se mi salta automaticamente Ma c'è un modo Per togliere l'auto jump Perché se non c'è Il modo per togliere L'auto jump Mio dio Mio dio veramente Cioè io odio Già questa versione Non è vero Non la odio Ovviamente sto scherzando Ma soprattutto Riusciamo a farci una porta Abbiamo abbastanza materiali Però mi sa di no Mi sa che non abbiamo Abbastanza materiali Per una porta Mio dio Come faccio Ma c'è della legna Questa qualche parte Non mi dire Devo ritornare Nell'altra isola Ok dobbiamo andare In quell'isola Prendere dell'altra legna E avere abbastanza materiali Per fare almeno una porta Tra l'altro Mi ricordo La primissima volta Che ho visto Minecraft Pocket Edition Ce l'aveva un mio compagno Di classe Quindi si parla di qualcosa Di 4 anni fa 4 o 5 anni fa All'incirca E non era neanche Proprio Non era così Era molto diverso Se non mi ricordo male Quindi hanno fatto sicuramente Tanti aggiornamenti E l'avranno reso Molto molto più bello Io non sono neanche registrato Cioè non sto utilizzando Un account Anche perché non credo Che posso utilizzare L'account coli che osserva No Non volevo piazzare quel blocco Mannaggia te Lo volevo rompere Aspettate Ma io ce l'accetto E non lo utilizzo Dicevo Non sono neanche registrato Perché non sto utilizzando L'account coli che osserva Ma sono uno stupido Steve Sono un tempigli Steve E senza offesa A chi è Steve Ovviamente perché Steve Comunque ha dato inizio A tutto ciò Quindi dobbiamo portare rispetto Al grandissimo Non imperatore Steve Allora Abbiamo già abbastanza regna Quindi possiamo ritornare Nell'altro isolotto Dove abbiamo praticamente Ehm Costruito Abbiamo iniziato a costruire La nostra casetta Facendo le fondamenta E sicuramente Verrà una schifezza Ma non importa ragazzi No E soprattutto C'è un modo per andare in F5 Questo che fa? Cosa fa questo pulsante? Non lo so ragazzi Non so Spiegatemi nei commenti Cosa fa questo pulsante Tra l'altro Dicevo Non c'è un modo per andare in F5 Il che mi dispiace tantissimo Perché sapete che io vado spesso in F5 Mentre parlo con voi Faccio vedere la faccia di colui che osserva Così è come se stessi parlando Face to face Con voi Ehm Allora Adesso abbiamo abbastanza legna Quindi Costruiamo una bella porta Che Mamma mia È difficilissimo muoversi in questo gioco Ok Costruiamo una bella porta Dove sta la porta? Porta 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 Ah no Prima devo fare Ovviamente Certo Mica Mica È scemo il gioco Come si apre l'inventario? Ecco No aspetta Dov'è il mio inventario? Il mio inventario dov'è? Ah eccolo Questo è l'inventario? Ok Questo dovrebbe essere l'inventario Prendiamoci tutta questa legna Poi andiamo Ehm A costruire la porta Come si fa? Non posso? Ah certo Perché la devo costruire qua ovviamente La porta deve essere nella crafting Però nonostante ciò Ah eccola Perfetto Ok Porta costruita Che troveremo qui E la scambiamo con questi saplings Ok Vedete che sto imparando Piano piano ragazzi Questi sono i miei primi dieci minuti di gioco E piano piano stiamo già imparando Oh Porta messa Ora Siccome non ci serve a noi questa porta La posizioniamo qua Giusto per avere un pochettino di spazio in più E Cos'altro possiamo fare? Ci abbiamo abbastanza legna adesso Per continuare la nostra casetta Scrausetta Anche se sicuramente Non ne avremo abbastanza per finirla E quindi Che facciamo? Vabbè Possiamo restare qua volendo Voglio dire anche se dovesse arrivare la notte Che poi C'è la notte Esiste la No Sbagliato Ti dovevo piassare là Dicevo Esiste la notte in Minecraft Pocket Edition E soprattutto Mi trovo male io con i comandi Perché c'ho le di tozza tozze Oppure Perché proprio Cioè anche voi vi trovate male Non capisco O forse è solo una questione di abitudine Chi lo sa ragazzi Chi lo sa Dovremmo giocare ancora tanto Tante altre partite Per imparare queste cose Per capirle Allora La legna sicuramente non ci basta Perché come vedete L'abbiamo appena finita E quindi dobbiamo iniziare a utilizzare Qualcos'altro Per esempio Boh Il blocco di lana Utilizziamo il blocco di lana Ok siete pronti ragazzi A vedere la mia casetta bellissima Guardate 3 2 1 Eh Una meraviglia È bellissima E o non è bellissima E questa ragazzi È la mia prima esperienza In Minecraft Pocket Edition Quindi entriamo qua Tra non molto dovrebbe farsi notte E io voglio andare a tutti i costi In F5 È possibile andare in F5 Mi sa proprio di no Tra l'altro ragazzi Lasciate un bel mi piace Per la doppia inquadratura Perché vi sto facendo vedere Sia le mie mani Le mie mani I manitozzi Ecco Sia le mie mani Che il gameplay Sperando che non ci siano problemi Di qualità O di Non lo so Di laghi Anche se A me non sta laggando per nulla Qua dal cellulare Quindi spero che la registrazione Non laghi Adesso sapete che facciamo ragazzi Troviamo un mostro da uccidere Uccidiamo un mostro E chiudiamo qua l'episodio Perché è tutto quello Che posso fare Fino per ora Cioè mi sono costruito una casa Ho ammazzato una pecora Ho ammazzato un maiale Sono andato sott'acqua Uccidiamo un mostro E basta E ho finito Che altro devo fare Non c'è altro da fare Allora abbiamo un'altra pecora Ehi signora pecora Lei vuole essere nel mio video Per caso se vuole Possiamo andare E l'aiuto E soprattutto Per quale motivo La mia fame ancora non è scesa Neanche di una tacca Cioè io sto camminando qua Da 13 minuti all'incirca Non è ancora scesa Proprio di nulla Ciao pecora Ok vieni qua No 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 Non scappare Ma chissà com'è il pvp ragazzi Nei server In minecraft pocket edition Se questo video Dovesse arrivare Alla bellezza di 7000 Mi piace ragazzi Provo a fare pvp Nei server di pocket edition Perché esistono Esistono i server E si può fare anche il pvp Sono proprio curioso Di vedere se sono forte Anche lì Oppure no Perché probabilmente non lo sarei Vedo uno zombie E la Che cosa è quello È un ragno? Ok salve signor zombie Pronto a combattere Contro un imperatore In pocket edition Secondo me non è pronto per nulla Oh mio dio Guardate lo massacro Lo massacro L'ho distrutto ragazzi L'ho distrutto Non mi ha tolto neanche Un cuoricino Vanno giù come cioccolatini Vedete Oh mio dio Ma è facilissimo Ma è veramente facilissimo Allora ragazzi Come vi dicevo 7000 mi piace E proviamo anche i server Perché questa è la modalità Single player Ho imparato un pochettino A giocare So muovermi più o meno So dare le spadate Come vedete Quindi Io ne porto ovviamente Un altro Perché ve l'ho promesso Dal vostro candle imperatore È tutto Spero vi sia piaciuto questo video E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Quindi Ciao ciao